Buongiorno a tutti, mi chiamo Paola e da due settimane lavoro in ADECCO in ambito amministrativo. Sono supportata da due tutor aziendali e mi trovo molto bene. Questa opportunità di lavoro l'ho avuta grazie a Diesis, a seguito di una valutazione sulle mie capacità e possibilità. Sono stata inserita infatti in un progetto che vuole favorire l'inclusione delle personatistiche nell'ambito lavorativo, in collaborazione con la Fondazione ADECCO. Al fine di favorire maggiormente i miei inserimenti in azienda, la società Diesis mi ha infancato un tutor. Sono molto grata alla società Diesis per questa opportunità di lavoro e anche per il sostegno che mi sta dando al fine di garantire meglio il mio inserimento in azienda. Buongiorno a tutti, grazie a tutti.